Ciao a tutti raga, diciamo che la voce un po' mi è tornata, la fortuna non c'era tanta gente allo stadio per cui sono riuscito a conservarla, non come in Torino Lazio, ma ragazzi che dire, è una partita sensazionale, 4-0 impensato, se me l'avessero detto prima non ci avevi mai creduto, ma veramente, non ci avevi scommesso neanche un centesimo, bravo, tu ti dà prima all'ultimo, da Bregolo che ho criticato i primi due minuti e poi ho iniziato ad adorare a Sindro che ha fatto un partitone, a Bremer che ha fatto scompaire Blaovic, veramente, non sto neanche a dirvi tutto quello che ci sarebbe da dire, meno quanto della conference, andiamo adesso con la testa poi sabato che giochiamo contro la Sampdoria a Genova, ne vedremo a Semi Live, e niente ragazzi, vi ringrazio per tutto il supporto, lasciate un like, un'inscrizione alla campanella per restare sempre aggiornati, veramente, è gratuito, vi costa un attimo, in descrizione è un'impensa e un'infermessa, un'infermessa, vi sto a un'infermessa, 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 un'infermessa Secondo vlog del canale, intanto mi metto la mascherina, Lori saluta il secondo vlog del canale, dove sei? Ciao! Torino, Fiorentina, si va, adesso piccolo taglio, ci vediamo davanti allo stadio, a parte che sia nel parco di fianco, abbiamo parcheggiato, e adesso si va, dai ragazzi! Purtroppo da fuori non vedo l'entrata dei giocatori in campo, ma tra l'altro voi non vedete bene perché qua c'è il sole contro luce, ma ci siamo ragazzi! We are arrived, che inglese penoso, e niente, adesso incontreremo anche Stefano e Matti da qualche parte, non so dove, che ci stanno aspettando, e si entra, e servono i tre punti perché, vabbè, a parte che ne parliamo dopo. Ragazzi siamo dentro, adesso vi giro un attimo ed entriamo dentro. Ci siamo! Si va! Per l'esodio di Gemello in serie, il face reveal del secondo Stefano del canale, dovrò trovare un terzo, dobbiamo fare la serie, gli Stefano, gli Stefano allo stadio, adesso no, adesso vi faccio lo zoom su Luca Gemello. Beh, eccolo là, il nostro portierone, va lì, vuole parare Rigola Vlaovic! Come avrete sentito il mio post, cioè, la curva è più vuota dei distinti, per esempio, cioè, è qualcosa di infattibile per il bacino, è assurdo, cioè, quella è la curva, la nostra curva! Ci siamo, fermi, fermi, ci siamo! C'è, senti il... Che mortorio! C'è, senti il... C'è, senti il... Il nostro mister, Ivaldo! Ivaldo! Uig! Con il numero 89, Luca! Giuseppello! Con il numero 26, Coffi! C'è, senti il... Sì, 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 sì. Con il numero 3, Grayson, con il numero 13, Riccardo, con il numero 17, Willfield, con il numero 10, Sascha, con il numero 38, Rolando, con il numero 28, con il numero 27, Marky, con il numero 22, Danny, con il numero 14, Yossi, e con il numero 19, Tony, Sanabria. Forza, vecchio, cuore, Granata, sempre, e solo, Forza Toro! Considerazione più che giusta, mai visto in un stadio così vuoto, mai visto. Dai raga! Dai raga! Dai! Vai! Stoppa! Che cosa fa? Precalo oggi! Chi non salta bianco lero, eh! Chi non salta bianco lero, eh! Eh! Chi non salta bianco lero, eh! Vai! Sali! Vai vai vai! Prezzo! Precalo, almeno te! Buono, buono, buono! No! Eh, alto, troppo alto. Non calciar che non lo sai fare. Non ci credo mai! Non ci credo mai, singolo. Buona, dai, dai! Che mo... Gigi, cioè... Non può essere... Non ci credo mai! Mi sento male, non può essere... Vai, 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 vai! Ancora, vai ancora! Salite dentro! Ma dai, miseria! Sì, vai, 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 che te l'ha ridata! Vai! Sì, sì! 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 Dai così! Sì, uipi! Dai così! Dai! Sì! Dai, yes! Sì! Sì! Dai così! Sì! Dai! Chi che? Chi che? Sì, goto! Oh, sì, c'è! SINGO! 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 Bello! Dai così! SINGO! 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 Dai così! SINGO! SINGO! Sei... L'hai messo Brecalo? SINGO! SINGO! BLECALO! 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 dai ma no ma dai no 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 bravo toni anche in difesa correte corri margin corri vai 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 siete sei sei vai così dai 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 in numero 4 si plecalo 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 ple-ca-lo sei calcio d'angolo solo per pochi solo per pochi che hanno visto il video di Torino-Lazio it's for you stay fine mio tempo 3-0 pulito si parte secondo tempo e dai si 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 dai così si dai 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 sanabria 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 sei quattro ragazzi c'è calcio io non ci chiedo finché non fisco io non ci chiedo finché non fisco joseph 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 calo oh io voglio anche il gol di bremer o di gigi ultimo într cholini non no 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 si dai bene dai si 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 attraverso non ci credo non è vero Cambio. Bravo! E Carlo Candoniere! Godo! Fuori Beccalo! Sei unito! Chiosi Beccalo! Fuori Beccalo! Fuori Beccalo! Marco Cilassa! Marco! Marco! E faccia il quinto! Altro cambio, due cambi! Che grande giocatore! Mamma mia Beccalo! Beccalo criticava! E numero 29! Tennis Franco! Bravo Prat! Sacrificio! Gran giocatore! Questo è fatto male però tutta l'altro! E ce l'ha il fante ovviamente! Con? No, che si prega! No, no! Sì! Probega! Mi prende voto! Non so neanche chi è ma fanno! Probega! Probega! Vai Tommy! Gigi a chiusura! E Bremer ancora! Oh! Vai, 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 vai! Dai così single! Passa! Sì! Nooo! Povega, miseria! Mamma mia! Povega! Guarda questo! Guarda questo! Marco Doro! Sì! Noi single! Grande single goal! Ma Winfrey! Vai, vai Debbie! Vai! Benzina! 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 Single! Single! Ole! 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 Single! Single! Sì! 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 Nooo! Oh, occhio! Dai, non adesso! I clestiti di Gemello! Sei! Sì! 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 Non si credo che Gemello non può fare il debutto 4-0 al debutto! C'è il clean sheet delle... 4-0 al debutto! Zero tutti si vedi in una parte! Non ancora! Luca! Gemello! Luca! Sì! Vai! Senza recupero! Senza recupero! Oh, godo! Vai! Oh! Moa! Oh! ASpe- Uohoof- 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 Non posso lo fare Dai Conclude qua Senza voce anche con lo stadio vuoto 4-0 La valida del secolo Il gemello diventa il nuovo idolo Da oggi Non ho neanche parole Penso uscire un video post partita Non ne ho idea Pronto sta che ci vorrà un casino Montare questo video Però niente raga Ci vediamo Saluto dal video Ciao E dai Siamo in forza